Allega, per favore, per favore, allora, allora, scusi un attimo, scusa un attimo, no, parlo Allora, alle ragioni i consigli devono stare in alto, su questo è un rispettamento delle ragioni, l'importante carattere, mi ero guardando, e alla maggioranza sono le ragioni, usciando un altro, mi sembra che chiaramente se riuscite in Italia è particolarmente anche al di fuori della richiesta del numero regale, quindi chiaramente se volete o volevate potete uscire tranquillamente Allora